Festa grande a Colceresa per i cent'anni di Rino Galliazzo. Nato a Mazon, Rino si è trasferito in giovane età a Villa Verla e quindi in Libia nel periodo di maggior spinta del colonialismo, dove è rimasto fino a quando è andato in guerra ed è stato fatto prigioniero. Ha lavorato poi come agente di polizia portuale a Genova, dove ha conosciuto Vanda, che sarebbe diventata la moglie e la madre dei suoi figli. Negli anni 70 Rino è tornato a Mazon, dove svolge autonomamente ancora oggi tutte le faccende di casa e spesso aiuta vicini e parenti. Ha tre figli, sette nipoti e otto pronipoti. Per i suoi cent'anni il sindaco Enrico Costa ha voluto portargli i saluti della comunità e l'ha trovato mentre supervisionava i lavori di giardinaggio attorno a casa sua, con occhio critico e la sua solita grande carica. Il mio segreto è mangiare bene e lavorare.